eccoci buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti ben ritrovati ben ritrovati allora allora prima di tutto fatemi sap se ci siamo prima di tutto e se si vede se si sente vabbè non l'audio il gioco perché ancora non l'ho abbiato infatti vedete la schermata nera però almeno se si sente la voce aspettate che risetto un tantino la chat e intanto approfitto per ringraziare nel frattempo allora un santi a caso per la sottoscrizione grazie mille fatta prima della mentre c'era lo starting soon e grazie mille per la sottoscrizione anche a aspetta che non leggo bene herbert grazie mille grazie mille grazie mille anche a casira quo si casira perché poi ha schippato grazie mille per la sottoscrizione grazie mille per la sottoscrizione per il nono mese consecutivo attenzione ardo 98 grazie mille grazie mille grazie mille anche a il viscido per la sottoscrizione a lucius fx sempre per la sottoscrizione e a sasone potterone per la sottoscrizione grazie mille grazie mille a tutti arrivate a pressione come se non ci fossero domani dicevo non so se ho sistemato ancora la chat fatemi vedere un attimo momentus momentus arrivo velocizzo un pochino la chat probabilmente un po lenta poi cercherò di seguire allora grazie mille anche a draking per la sottoscrizione se avete pazienza e che so o soccecato ho cambiato un attimo il setup della live e anche il layout come potete vedere grazie mille anche a per la sottoscrizione per il sesto mese grazie mille grazie mille come vi dicevo cambiato un po la veste grafica che tra l'altro sarà varia per varie live nel senso che adesso ho messo questa qui che è molto semplice siccome ho cambiato anche diciamo il programma per fare streaming o meglio lo stesso programma di prima però è stato integrato con il programma come vedete di donazioni sottoscrizioni e quant'altro che mi rende tutto dovrebbe rendere tutto un po più semplice vi dico subito che il programma è ancora in versione beta quindi è la prima volta che lo provo non so se ci saranno problemi non so se si bloccherà non so se ci saranno intoppi dovrebbero esserci ancora alcuni bug però vediamo vediamo se funziona adesso proviamo per la prima volta e poi grazie mille anche a method feeder per la sottoscrizione e a giorgio 82 per la sottoscrizione per il quarto mese grazie mille grazie mille quindi testiamo un pochino la cosa comoda è che io adesso in una schermata ho un po tutto queste che sto leggendo vabbè ho scritto un po piccolino però va bene la live la chat e tutto quanto quindi è molto più comoda rispetto a prima e in più ci sono anche dei layout diciamo gratuiti che potete scaricare direttamente dal dal programma altrimenti non so capace a fare queste cose anche se un ragazzo mi aveva fatto un layout se non sbaglio Luca poi lo utilizzeremo in qualche live fatemi vedere se è giusto si Luca mi aveva fatto un layout adesso ho messo questo qui perché questa sera proveremo king.com deliverance che dovrebbe avere parecchie cose a schermo quindi questa qui forse è quella meno invasiva rispetto ad altre che sono estremamente fighe però ci sono un po di cose che potrebbero andare a coprire magari alcune scritte grazie mille anche a demon radical per la sottoscrizione e a davide grazie mille e quindi vediamo un pochino come si comporta prima di tutto il programma che spero che possa funzionare decentemente così usiamo questo e buonanotte che mi è più semplice grazie mille anche per la donazione un santi a caso grazie mille grazie mille grazie grazie la webcam l'ho messa un po più piccolina perché come detto il gioco è abbastanza complesso da quello che ho visto quindi sicuramente ci saranno scritte a schermo sottotitoli informazioni quindi non ho la più palida idea di cosa andrà a coprire qualcosa l'andrà a coprire sicuramente la webcam però ho ristretto un pochino in modo tale che comunque possiate vedere decentemente il gioco poi come detto ci sono anche altri layout che sono veramente molto ma molto fighi le useremo per le prossime live che probabilmente faremo se riesco ad organizzarmi già domani con monster hunter come sempre vi aggiorno sulla pagina facebook sulla community di youtube e vabbè comunque va arriva qua la notifica se uno sia tutto a dovere per quanto riguarda kingdom ragazzi lo proviamo insieme o prima l'ho avviato semplicemente per settare il tutto per vedere se si vede o meno proviamo la combo nel senso nuovo programma con nuovo gioco calcolando anche che il nuovo gioco è un pochino diciamo secondo me cioè secondo me secondo anche le recensioni e quant'altro deve essere ancora ottimizzato un pochino oggi è uscita già la patch del day one che erano più o meno 25 giga oltre al gioco e andava a migliorare alcune cose che non erano ancora state patchate tra la data di tra virgolette consegna del gioco per la vendita fino al day one perché comunque passa un po' di tempo viene consegnato circa credo erano due o tre settimane prima quindi in queste due o tre settimane gli sviluppatori di questo gioco che ricordiamo un gioco che tra l'altro ha preso il via da kickstarter quindi è stato finanziato con kickstarter e hanno approfittato appunto per migliorare alcuni aspetti altri aspetti saranno ancora da migliorare quindi per il momento l'ottimizzazione è un po' così così quindi potrebbe risultare molto pesante sul pc più del dovuto tra virgolette però vediamo se gliela famo o meno nel frattempo grazie mille a Sharon per la sottoscrizione a Checco Violento per la donazione dai di sportileggianze buona live a tutti grazie grazie e questo è quanto comunque questo è quanto come sempre questa live la ritrovate sul secondo canale come tutte le live forse solo quelle di Monster Hunter le ritroverete invece sul primo canale perché abbiamo iniziato la serie sul primo canale quindi se facciamo delle live dove probabilmente faremo anche alcune missioni ve le riporto sul primo canale eh le scritte aspettate cioè più che altro prima non c'erano quindi adesso che sono uscite ah proprio le ha messe una sopra l'altra vabbè sono un po' così magari vedremo con gli altri layout se si leggono meglio eh sì anche perché ne ha messe più di una non so per quale motivo aspettate quella della sessione eh grazie mille anche a Storm Popper per la sottoscrizione per il decimo mese attenzione eh non so se riesco a settare aspetta datemi un attimo che perché ho qua potrei anche modificare qualcosina poi partiamo non tu vorri però approfitto anche di questa live per ecco ok adesso c'è sarà un pallato poi per le altre scritte vabbè dipende dai nick dipende dai nick se avete nick lunghi va a capo va a capo quindi ok ok sì infatti infatti allora adesso intanto vi ci avviamo il gioco che non avevo avviato perché dovrebbe esserci una intro quindi almeno ce la vediamo insieme la intro vediamo un pochino sempre che prenda ok ci siamo ehm grazie mille anche al colombiano per la sottoscrizione e grazie mille a rioda per la donazione perdonate le pronunce spero siano giuste fatemi sap del volume di gioco grandissima è la mia prima donazione spero di non aver fatto casino no no è arrivata è arrivata grazie mille rioda e grazie mille anche a peppe per la sottoscrizione grazie grazie aspetta che leggo anch'io che non ho visto ancora poi recuperiamo tutte le donazioni e cose abbiate pazienza adesso leggo un attimo qui grazie aspetta che vediamo se riesco senza impallare il gioco alzo il volume di gioco ok alzo anch'io e mettiamo il gioco passaggio si diciamo che è un po' basso di su il volume venceslao il pilo che era appunto quello che ha preso il posto del babbo Ok quindi in questa situazione inizia appunto quella che è la nostra avventura Il re è morto, uno dei suoi figli è diventato Il re ma era un re un po' svogliato, un po' così E quindi i nobili hanno chiesto aiuto al fratello Venceslao Vabbè i nomi non me ne ricorderò mai, figuratevi se mi ricordo sti nomi Che è iniziato a fare cacciara e quindi noi ci buttiamo nel momento della cacciara Comunque fatemi un attimo recuperare la sottoscrizione C'era, ok Grazie mille a Dungaroth per la donazione Va bene va bene, puoi andare a fare la spesa tranquillo tranquillo Non so se mi sono perso altro, credo di no Credo di no Allora allora, è il volume effettivamente era un po' basso ma in realtà anche io il volume a palla Quindi probabilmente andiamo un attimo nelle impostazioni Ah no era in gener... Aspetta metto il volume in generale più alto Si stava messo a basso di suo Ok, conferma Fatemi sap se poi in gioco va bene Io nel frattempo me lo riabbasso perché adesso si è rialzato come se non ci fossero domani Allora, oggi no, altri video non ne usciranno però adesso ci buttiamo Ci buttiamo in game se no non partiremo mai più Andiamo con la nostra nuova partita Per quanto riguarda il... Allora, aspetta, linea di gioco 1 Seleziona la linea... in che senso? Ah, perché linea di gioco 1 forse è la partita che avevo iniziato prima Che in realtà non era... avevo iniziato per vedere se il gioco partiva Se era tutto a posto Quindi... Vabbè, facciamo linea di gioco 3 Così, a caso Altre sottoscrizioni... Sì, sì, è apparsa, è apparsa Forse non l'ho letta io ma... Gage, sì, è arrivata la sottoscrizione per l'ottavo mese Allora, aspettate L'inizio del XV secolo si rivelò un'epoca di notevole fermento per il Sacro Romano Impero Dopo il florido regno di Carlo IV, il trono di Bohemia andò a suo figlio Venceslao L'indolenza di Venceslao suscitò l'ostilità di molti nobili Al punto che il suo fratellastro, Re Sigismondo d'Ungheria E dammi un attimo che devo leggere ad altavoce Vabbè, comunque, è quello che ci ha detto nell'intro sostanzialmente Queste cose se riesco, se mi dà tempisticamente il tempo di leggervelo Ve le leggo, se no... Per quanto riguarda Monster Hunter, don't worry che inizieremo le live Anzi, sto pensando di fare tutto in live Perché i video normali non se li sta comuniculando 3 secondi Scaligarge, 1430 Grazie mille a TheOdin per la donazione Grazie mille, cinque anni Dai, ed è RPG Open World Eh, qua Qua sarà da vedere Non so se farò una serie, ragazzi Perché il gioco sarà infinito Stiamo facendo anche Monster Hunter Che mi sta infognando tantissimo Quindi ci regoleremo un po' di conseguenza Ogni tanto qualche live su questo ci può stare Dipende un po' come mi riesco ad organizzare Dai, quanto parlano cerco di seguire Abbiate pazienza Vediamo anche come sarà tecnicamente il gioco Perché, come hai detto Mi interessava Vediamo un po' di nuovo Eh, Monster Hunter Sì Qualcosa è stato segnalato Aspettate che Aumento d'acqua Il volume del microfono Vediamo Eh, la barra non l'ho inserita Però calcolate che Comunque ne tiene conto Quindi Le donazioni andranno lì Diciamo Non vedete la barra perché Come detto Il layout è questo qua Potrei aggiungerla Però vediamo Grazie mille a ZapZap Per la sottoscrizione Grazie mille Si, in alto a sinistra Ho messo gli FPS Perché so che il gioco Ha qualche problemino Sotto questo aspetto Quindi Lo teniamo d'occhio Eh, grazie mille Anche a Ulderigo Per la sottoscrizione Grazie mille Grazie mille Eh, in questo caso Invece no Perché una particolarità Del titolo È che È molto realistico Da questo punto di vista Non ci sono maghi Non ci sono Magie Non ci sono Cose surreali Chiamiamole così Allora, le prime due scelte Di questo dialogo Determineranno le caratteristiche Base del tuo personaggio Se non ti soddisfano Non preoccuparti Ogni attributo Può essere sviluppato Senza limitazioni Quindi Qua Andiamo A scegliere un po' Il nostro personaggio Come sarà Eh, grazie mille Anche a Kizune Per la sottoscrizione Grazie mille Allora, quindi Vediamo Abbiamo Abilità Di dialogo Agilità Vitalità E forza Andiamo di forza Oddio Non lo so Però Dai Andiamo di forza Ho lavorato Alla forgia Così di notte Noi andiamo a lavorare Alla forgia Grazie mille Anche a Mem Per la Sottoscrizione Grazie mille Grazie mille Forza Non a livello Ok Li leggete bene I sottotitoli Spero di sì Spero di sì Allora Anche qui Dialogo Agilità Vitalità E forza Qua Andrei magari Vitalità Che dite Aumentiamo Vitalità E forza Dai Famo così Ero con Bianca Grazie mille Anche a Fibonix Per la Sottoscrizione Grazie mille E come vi dicevo Ragazzi calcolate che il gioco è stato sviluppato da un piccolo team indipendente E' stato finanziato su kickstarter Quindi non un titolo AAA Quindi è normale che non sia magari visivamente o tecnicamente come quelli sviluppati da software house che hanno a disposizione milioni e milioni di dollari Comunque grazie anche a Lorisso per la sottoscrizione Spero di leggere bene i nomi ma sono ancora più lontani dei sottotitoli quindi abbiate pazienza Allora Sei cresciuto così in fretta è difficile accettare l'idea Hai visto i miei amici? Ho fame? Papà è infuriato con me? Ti serve aiuto? Chiediamo se Babbo è infuriato con noi Non si sa mai Grazie mille anche a T Per la sottoscrizione Grazie mille Che era quello che aveva incontrato prima Questa è la nostra famiglia Ok quindi Allora allora chiediamo anche Cioè se gli serve una mano pure a lei Facciamo i bravi figlioli per il momento Per il momento Grazie mille anche a Griffiths per la sottoscrizione Per il nono mese consecutivo Tra l'altro Eh lanciano a te che spacca i denti direi Però dai ce la siamo cavati bene Anche se ci ha aiutato l'altro mostro Ma domani se riusciamo ci facciamo un po' di Monster Hunter Comunque comunque Vabbè dopo tutte queste gentilezze noi abbiamo anche una certa fame Ok ci ha lasciato la colazione sul tavolo Chiediamo se l'ha visto anche i nostri amici E buonanotte Non li ha visti Andiamo bene Ok quindi li troviamo alle taverne Abbiamo capito Sbagliate I miei amici non sono ubriaconi Scusa eh No eh Eh vabbè Vabbè quindi possiamo andare anche noi No chiediamo Fammi un esempio Vabbè arrivederci No vabbè abbiamo fatto tutto Quindi possiamo andare a aiutare il nostro padre alla forgia Ma non prima di aver mangiato qualcosa Allora Eh muoviti usando Puoi effettuare uno scatto Spazio Camminare Ok Interagisci con l'ambiente Potrai parlare con le persone Raccogliere oggetti O aprire casse Va bene Eh voce codex Mamma mia questo sarà un gioco Che ci saranno mille mila cose Vabbè non è che li possiamo leggere tutti adesso Magari andiamo un attimo su tutorial Ok Non adesso Mi sa che conviene farlo Man mano Eh Fatemi vedere un attimo Allora Quello che viene coperto Dall'HUD È la Eh Dove c'è il nome Con le donazioni Sottoscrizioni E quant'altro Quello lì sopra C'è il La bussola Vabbè Ci può stare Non posso spostare tutto Se no non ce la faremo mai Eh La nostra colazione Quale sarebbe Panino Posso prendere l'altro panino Ah no questa Ci sediamo Aspetta Se dobbiamo fare colazione Facciamola bene Dove ti sei seduto Perché davanti alle mele Se lì c'è una fagiolata Secondo me Posso prendere la fagiolata Vediamo l'inventario Anche l'inventario ci sarà Da spippolare parecchio Inventario Giocatore Diamo un'occhiata Brevemente A quello che è il menu Adesso non capiremo Probabilmente niente Però almeno un'occhiatina La vorrei dare Allora Questi sono i nostri Attributi Base Che sono anche tantissimi Tra l'altro Sazietà Vabbè sazietà Condizioni Queste sono le condizioni attuali Quindi energia Vigore Condizione Che a questo Dall'icona Sembra che sia il sonno Comunque dobbiamo anche Dormire Sazietà Non stiamo messi benissimo Abbiamo mangiato il panino Ma è così così Poi abbiamo le classiche Velocità Rumore Appariscenza Visibilità Carisma Dialogo Vitalità Agilità Il dialogo come vedete Sta aumentando un pochino Perché siamo stati qui a chiacchierare Forza e vitalità Probabilmente Ah no Tra l'altro con il più Possiamo anche Proviamo Che succede Ah no Addirittura qua Famo notte Grazie mille a Luca Per la sottoscrizione Per il quinto mese Esatto Siamo al quinto mese Grazie 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 mille anche a Dottor Sarius Per la Sottoscrizione Grazie mille Grazie mille Se ho letto bene Se no perdonami Però grazie Quindi sotto agilità C'è peso piuma Aggressore Arma Vabbè qua ci sarà da spippolare parecchio Per quanto riguarda gli attributi Che come detto sono tanti Poi abbiamo Battaglia E anche qui ci sarà da spippolare parecchio Abilità Effetti Reputazione Statistiche Vabbè E questo è il giocatore Poi c'è il cavallo che non abbiamo Le missioni Una visita in attesa Vai da tuo padre E vai alla lezione di scherma Abbiamo lezione di scherma Anche qui abbiamo la nostra mappa Fatta in questo modo Molto ma molto figo Tra l'altro Il codex Vabbè sono le voci Che avevamo visto prima E che magari pian piano Andremo a vedere Abbiamo il viaggio rapido Che al momento Vabbè non ci serve Perché presumo che dobbiamo andare Qui vicino E l'inventario Come detto Qui abbiamo tutto quello Che abbiamo a disposizione Appunto Il panino Tipo possiamo mangiarlo con E Visto che abbiamo fame Ok Tenendo premuto Questi già li abbiamo equipaggiati Abbiamo anche altri Cotta Che tra l'altro Va oltre lo schermo Difesa gambe Difesa braccia Corazza Quindi abbiamo anche tantissimi slot Per quanto riguarda le nostre I nostri equipaggiamenti Comunque la mela posso prenderla Non eseguibile da seduti Ma perché la mela posso prendere Se lo devo alzare Scusate No non ho preso la limited Ho solo la steelbook La mela però possiamo Ah no possiamo prenderla Non ho capito perché da seduti Non potevamo prenderla Però le raccatto adesso ragazzi Perché onestamente Zuppa di E sto morendo di fame Prendi la zuppa di lenticchie Che la mettiamo in tasca Con tutto il piatto Panino Facciamo man bassa di roba Anche perché se dobbiamo andare A aiutare il nostro padre Al lavoro È giusto che ci andiamo Con una certa Sportiveggianza E quindi Se andiamo nell'inventario Possiamo cibarci Delle varie cose che abbiamo Fatemi vedere un attimo Sazietà 47 Quindi il panino Non è servito un granché Condizione Ok Peso Eh il peso Sarà anche da vedere Perché abbiamo al momento 8.6 su 74 Il peso sui giochi GDR Mi preoccupa sempre Perché ora accolgo Qualunque cosa Quindi Potrebbe essere un problema Vabbè io qualche meluccia Me la mangio 49 Ce ne dobbiamo mangiare 600 di ste cose Guarda Mangiamoci la zuppa Di lenticchie Sbam Sazietà 59 Cioè dopo tutta sta roba Che abbiamo mangiato La sazietà è 59 solo 66 68 70 72 Siamo arrivati a 74 Di sazietà Ci siamo mangiati Il mondo E più Va bene Comunque Grazie mille Ad Astaroth Per la sottoscrizione Per il terzo mese Dai io sempre Con sportivegianza Sempre e comunque Comunque come detto A nord Nella parte dove c'è Il nick Vi siete Vi perdete la La bussola Vabbè Detto anche così Avete perso la bussola Comunque Siamo un po' qua fuori Nel nostro giardino C'è da mangiare qua Mangia dalla pentola Metti nella pentola Ah potevamo cucinare Mangia nella pentola Va Aspetta Come siamo messi A sazietà Adesso 98 Vabbè Allora mi potevo Tenere quella roba Da parte Vabbè Comunque Grazie mille Anche a Scorpions Per la sottoscrizione Grazie mille E sta di fatto Che io a questo punto Vado sulla mappa Ok Prebuto M Presumo sia qui Vai da tuo padre Che praticamente Qui dove siamo noi Mentre qui Cosa c'è Vai alla lezione Di scherma Vabbè Andiamo da nostro padre Che Ah dovrebbe stare qui Ma si può zoomare Sulla mappa Perché se no così no Yes Grande La mappa mi piace Fatta così Un po' come un arazzo Un disegno La steelbook Si è della versione pc Vabbè la steelbook Penso sia steelbook In generale Perché poi c'era Il codice Per riscattarlo Su steam Vieni Mi serve il tuo aiuto Eccomi Diamo una mano A babbo Sulla forgia Va Sto qua Un attimo Fammi leggere Grazie mille A Sbibi Ho letto bene Spero di sì Per la donazione Grande Ale Riesce a farmi sorridere Anche nei giorni più brutti Grazie mille Grazie mille Grazie Parliamo con nostro padre Perché ti comporti così Harry Vabbè Tanto avete detto Che si leggono bene Aspetta che è successo Un macello Persuasione A volte per raggiungere I propri obiettivi È necessario ricorrere Alla persuasione Quando parli con gli altri È spesso la possibilità Di scegliere Quale impressione fornire Allora Puoi ricorrere Semplicemente al dialogo Il suo valore Tuttavia è influenzato Dalla tua reputazione Nei confronti Dell'interlocutore Che è nostro padre Quindi non so Se gli stiamo sul cazzo o meno Però Nel medioevo Il proprio status Sociale Era determinante Di conseguenza La qualità Dei propri Indumenti La cura Della persona E la reputazione Hanno un notevole Ascendente Sul modo In cui gli altri Si rapportano a te Infatti Una cosa che Perché io ho qualche Informazione del gioco La so dalle anteprime Recensioni E quant'altro Dipende appunto Anche da come siamo vestiti Se ci vestiamo tutti eleganti Facciamo una bella figura Se siamo vestiti Come dei barboni Ci sputano in faccia Tradotto In modo molto Semplice Ma intuitivo Se il tuo aspetto È minaccioso Le persone avranno timore A incrociare il tuo sguardo E saranno più propense Ad affidarti In carichi pericolosi Su questo elemento Influiscono soprattutto Il livello della forza E l'effetto deterrente Di armi ed equipaggiamento Quindi se ci abbiamo Un'ascia in mano Probabilmente Saranno un po' Così Ma vengono calcolati Anche altri fattori Come eventuali Macchie di sangue Sui vestiti Cioè vedete anche La complessità Di queste cose Se abbiamo il vestito Macchiato di sangue Diciamo che Se ci presentiamo A un nobile Forse Non è proprio Ottima come cosa Esiste sempre la possibilità Di lasciare che sia Il denaro a parlare È sufficiente trovare Una somma Che soddisfi Entrambi gli interlocutori La corruzione Funziona esattamente Come gli acquisti Fai riferimento A commercio E contrattazione Bene In determinati casi Puoi provare Le altre abilità Di Henry Come cavallerizzo Che nella persuasione Non so a cosa Possa servire Ma va bene Quindi ricordiamoci Come siamo vestiti Se abbiamo macchie di sangue Controlliamoci prima Non facciamo figure di merda Che ci presentiamo Dissanguati E va bene Pagina 2 Come si fa? Ok Scegli l'approccio In base all'interlocutore Non sarà semplice Intimidire un energumeno E per quanto tu possa Essere elegante Impressionare la nobiltà Non è impresa da nulla E' molto complessa Come cosa Giustamente Se abbiamo di fronte Uno un po' Così Incazzoso Anche se siamo forti Potrebbe spezzarci In sostanza Alle abilità di Henry Non è associato Un valore universale Ma relativo A quelle della controparte Puoi visualizzare I valori di ciascuna capacità Sotto alla Relativa Icona 55 Ok Le tue sono sempre visibili Mentre quelle dell'interlocutore Sono consultabili Solo se è una persona Che conosci approfonditamente O se sei in grado Di leggere le persone Capacità garantita Dal talento empatico Segnatevi sto talento Poi lo chiederò a voi Perché io mi dimenticherò Come se non ci fossero domani Quindi Ricordatemi Il parametro empatico Che ci potrebbe essere utile Quindi andiamo a vedere Livello dialogo totale Livello carisma Livello forza totale Tipo Henry e la guardia 2 e 3 Non può funzionare Livello carisma 7 e 5 Può funzionare Quell'altro non sappiamo Perché probabilmente Non conosciamo la controparte La tua reputazione Con la controparte 27 Nell'esempio Quindi probabilmente Ci sarà già qualcosa Che conoscevamo Della quale Se no non ce li da Quelli Comunque sui risultati Non influiscono Solo le caratteristiche Ma anche fattori Come la reputazione O se sei sporco Sanguinante Se non riesci ad avere La meglio Su un mercante Sul piano dialettico Puoi avvelenarlo Per Ma come avvelenarlo Per ammorbidire La sua resistenza Alla persuasione Lo avveleniamo Vabbè Allo stesso modo Una guardia isolata Dai commilitoni Sarà più semplice Da intimorire Molto Ma molto Complicato Direi Quindi Allora In questo caso Noi conosciamo Nostro padre 100 È la reputazione Che abbiamo Con nostro padre Non sappiamo Però Allo stesso tempo Quei parametri Come sono messi Quindi Andiamo a vedere Un pochino Ho avuto un contrattempo E una chiacchiera classica Scusa Sono stato a dare Un'occhiata in giro E non sono il tuo schiavo Diciamo che abbiamo avuto Un contrattempo Chiacchieriamo Prendiamola Sulla chiacchiera Vediamo un po' Vabbè dai È nostro padre Giustamente Ok dobbiamo fare Una spada Bene Ci ridà Li sordi Ah ok 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 Abbiamo veramente tante cose da fare Allora la maggior parte delle missioni Può essere completata in modi diversi Può ricorrere all'eloquenza per stringere nuove amicizie A girare i pericoli muovendovi con circospezione Oppure andare direttamente al punto con l'uso della violenza Ok Quindi praticamente dobbiamo andare a recuperare il carbone Per comprarlo non abbiamo soldi Quindi dobbiamo andare dal tipo che ha venduto A cui ha venduto, ha fatto l'ascia e quelle cose Per recuperare soldi Insomma dobbiamo fare un sacco di cose E datemi un attimino che sto vedendo se sono un'azienda Tutos E quindi Possiamo andare prima di tutto a Inventare missioni Una visita Allora Obiettivo attuale Vai alla lezione di scherma Tra l'altro Che forse sarebbe anche utile Prima di andare da qualche parte Perché altrimenti Se ci dà magari anche una spada Non sarebbe male Compra un sacco di carbone al mercato Riscuoti il debito Ritira Guardi al castello Compra la birra alla taverna Dobbiamo fare un sacco di cose Grazie mille Bracata per la sottoscrizione Ho letto bene Penso di sì Yes Grazie mille Grazie mille per la sottoscrizione Comunque è molto ma molto complesso il gioco Come potete ben notare Quindi questi sono i vari obiettivi La prima cosa che vorrei fare Come vi dicevo E andare magari Alla lezione di scherma Che dite Andiamo alla lezione di scherma Che si trova su B Voi non la vedete Ma io sì Perché ho la La bussola lì sopra Dove ci sono indicate anche A, B, C E le altre lettere Nuova voce Il registro raccoglie tutte le informazioni Relative alle missioni Per complesso Sono indicate Sulla mappa Vabbè già l'abbiamo visto Comunque se io vado sulla mappa Dobbiamo andare su B Questo cos'è Compro un sacco di carbone Compro un sacco di carbone No è questo Questo dovrebbe essere La lezione di scherma Riscuoti il debito Prima di riscuotere il debito Come detto vorrei andare a fare Secondo me queste si stanno Compenetrando Perché la B dovrebbe essere La lezione di scherma Quindi Datemi un attimo Andiamo a fare Lezione di scherma Sì sì Siamo su PQ Fatemi vedere un attimino La lezione di scherma Su B Hai scoperto la taverna Al momento Senti il sound Maestro d'armi No no Vogliamo imparare In realtà Vabbè comunque Vediamo Facciamoci sta lezione di scherma Un attimino di scherma No no Allora siamo pronti Se no questo se ne va Poi che ci insegna Andiamo Andiamo Pronti Facci sta lezione di scherma Vicino all'ovile Vabbè Ma se ti seguo Va bene uguale Hai scoperto il carbonaio Che vuoi Che fa spinge Vabbè Lo seguiamo Almeno ci facciamo La La nostra lezione di scherma Che probabilmente Come detto Ci potrebbe essere Utile Perché se andiamo A riscuotere Il debito Dal tipo E magari il tipo È un attimo Incazzoso E caccia la spada A parte che noi Non ce l'abbiamo la spada Però magari questo Ce la dà Che video di Vabbè questo però Di una lente Attenzione Aspettate Tanto qua deve venire Ha detto all'ovile Guardale qui Salve Dai È così di cattiveria Olè Se ne vanno Arena dei combattimenti Ci sono Io ci sono È quello che ancora Non arriva Grazie mille A Gin Gin Per la sottoscrizione Grazie mille Gin Grazie Grazie Dov'è passato Ah eccolo qua Eccomi Ci sto Ci sto Siamo pronti Assolutamente sì Allora In linea teorica Il combattimento È un po' Così così Certo Comunque Ma non ho imparato niente Che cazzo ti faccio vedere Scusa Non ne ho la più palida idea Io ho iniziato adesso Tutorial sulla spada Ok va bene Il combattimento Aspetta In combattimento Verrei aggaggiato Dal tuo avversario Puoi Aspetta Intorno a lui Usando Eh no No vabbè Non ho letto Che altro cazzo Stava dicendo Cioè nel senso Prima gli altri tasti Che aveva detto Imposta la direzione Del colpo Con il mouse Ah ok Allora come muove il mouse Tipo adesso Se muove il mouse Da questo lato Si sposta in questo modo Ok quindi Lo metto sopra E Bam Con la lentezza Nel cuore Proprio Imposta la direzione Con il mouse Vabbè Fiamo così Tanto questo si para Fendente potente Se lo faccio piano Aspetta Fatemi provare Eh no vabbè Questo si para uguale Comunque Si è un po' Così Il combattimento Diciamo Allora Le stoccate Stoccate Gli attacchi leggeri Sono più veloci E precisi Le stoccate Possono essere dirette Al volto Zona superiore Al corpo Qualsiasi altra zona E come si fa Scusa Ah ok Tipo così Zacchete Quindi la parte Zacchete La Ok Vabbè Ci proviamo E' un po' macchinosa Come cosa Allora Allora Con catena e colpi Inizio il nuovo attacco Non appena Puoi cambiare la zona D'attacco Oppure continuare A colpi Premi E o le Appena Spada Impatta Contro la Vela La finestra Temporale In cui agire Completa L'attacco Nel nemico La conclusione Leggo velocemente Se no non faccio in tempo Neanche a leggervela Leggerla per me Quindi Vai Aspetta Si sta Stancando Probabilmente Si è Praticamente Morto La Ok Vabbè Ci spaccheranno Il culo Perché è Complicatissima Sta cosa Ok Si però Se te ne vai Come cazzo Faccia Legge Vabbè Comunque Tornando a noi Ce l'abbiamo Tipo una spada Qualcuno Neanche questa Di legno Ce l'ha lasciato Mortacci Sua Aspetta Fatemi vedere Se all'ovile Magari c'è Qualcosa Sai com'è La zona di allenamento Magari a qualcuno E' caduta Una zappa O qualcuno Niente Va bene Va bene Bene è così Tornando a noi Mappa Andiamo a riscuotere I soldi Dal tipo Aspetta Come faccio Riscuoti il debito Qua dovevamo Comprare il sacco Di carbone Qua dovevamo Comprare la birra Ma se non ci abbiamo Soldi Ritira La guardia Al castello Che onestamente Non so cosa Significhi Ma va bene Grazie mille A MB Art Per la sottoscrizione Addirittura Per il quindicesimo mese Attenzione Quindici mesi di sportiveggianza In tua compagnia Grazie Grazie a te Per la sottoscrizione Grazie mille Per la quindicesima Sottoscrizione Attenzione Comunque Comunque Come detto Siamo nel medioevo Quindi Ci dobbiamo un attimo Arrangiare con quello che abbiamo Al momento Non abbiamo niente Tra l'altro Come detto Dobbiamo andare Hai scoperto commerciante A me non interessa Al momento il commerciante Mi interessa quello Che ci deve dare Dei soldi Che spero sia Cioè calcolando Che gli abbiamo fatto L'ascia Questo significa Che c'ha un'ascia A casa E se c'ha un'ascia A casa E' pericolo Eccolo E' questo Ah no La usa così Ok Pensavo lo usasse Per ammazzare gente Tipo noi Grazie mille A Dragmines Per la sottoscrizione Grazie mille Grazie mille E Fatemi parlare Con Kanesh Ecco Già è partito male Che cosa vuoi Stai calmo Mio padre vuole i soldi Prima di tutto Non è che stiamo qua A perdere tempo Come non ha niente Paga almeno Gli attrezzi Paga almeno Gli attrezzi No paga tutto Altrimenti Spacco il culo Moscata la risse Ci fa malissimo Questo Aia Mi sa che finita male Preparati a vederte I debiti Vanno onorati Proviamo a chiacchierare Proviamo Ah ok Quindi Dito nella piaga Attenzione Cocco saluto a tutti quelli Che si stanno unendo Siamo quasi 400 Quasi Quindi non va bene Dobbiamo essere più Attenzione Allora Già che par Aspetta Fa scattare la rissa Qua Attenzione Rissa Le caratteristiche Giocatori sono Determine Ok Presa la schia P giocatore Harry sviluppa le proprie capacità Costantemente Dopo alcuni avanzamenti Il livello Il giocatore potrà Selezionare un talento Attraverso Sì però Sti cazzo di tutorial Me li puoi dare Magari Quando io Vai Stoccata Liscia Ti spacco il culo Vieni qua Vieni qua Maledet Mannaggia la puttana Siamo lenti Come poche cose al mondo Aia Aia Porca puttana Dai Colpisci Aspetta Aspetta Quelle bar Dove vai Sì ma perché siamo così lenti Ma scusa Ma non è un giovincello Questo che stiamo utilizzando Che cazzo C'ha la Aia nei coglioni Aia Quelle barre lì sotto Non Aia Però siamo delle merda In combattimento Scusa E dagli un cazzotto In bocca Ma possiamo anche tipo Guarda come Come dribbla i colpi E dai Ci sta a prendere A ginocchiata in bocca Da 20 minuti Stoccata Stoccata Niente Non lo so ragazzi Io vado a caso Perché non è che si capisca Un gran che Guarda come evita Dai che ho parato pure io Daglielo Daglielo Un cazzotto In bocca Porca di quella puttana Vai Madonna La lentezza Comunque Quando rallenta Penso che sia Quella barra gialla Che dovrebbe essere Tipo la stamina Di tu mamma Sì ma qua Andiamo avanti All'infinito Fino a quando Questo non ci spacca Il culo Più che E dai Scusate Questo giovanotto È una merda Però con questo Sound Niente Non possiamo fare Maestro di spada Per favore Metti la cera Togli la cera Metti la cera Togli la cera Vattene a Fanculo Vai da tua madre Lei ti metterà In sesto Ma che andiamo A piangere Dalla mamma Prova a recuperare L'ascia Il martello I chiodi In un altro modo La tua energia È sempre visibile Lungo il bordo Inferiore Il livello di energia Determina anche La quantità massima Di vigore Quindi è consigliabile Curare appena possibile Di norma Harry può recuperare Forse consumando cibo E dormendo Mentre per i casi Più gravi Esistono le pozioni In questo caso Esiste la mamma Che probabilmente Dobbiamo tornare a casa Che figura di merda Grazie mille A fantasma Formaggino Per la sottoscrizione E grazie mille Anche ad Ergut Per la sottoscrizione Per il sedicesimo Mese Attenzione Ben tornato Eh sì Effettivamente sì Grazie mille Per la sottoscrizione Però non possiamo Tornare Aspetta Ma Posso salvare Prima Scusa Fatemi No Non posso neanche salvare Cazzo Se frego Grazie mille Tu non sai niente Per la sottoscrizione Grazie mille Ma io voglio Dite che ci becca qualcuno Se commetti un furto Cerca di non farti scoprire Vendere aria furtiva Non è mai semplice Smerciare una mela rubata Del mercato Provenenza Potrebbero riconoscerti E spargere la voce Rivolgiti A negozi più possibili Distanti dal luogo Del furto Trova un professionista Da compravendita Ok Sì però Stia cazzo di note Me ne puoi far durare di più Allora Lascia Ce la siamo fregate Va bene Allora in linea teorica Sì la guida c'è Però il problema è che Proprio gli attacchi È troppo lento Secondo me Al momento siamo ancora Troppo lenti Ah c'è G per la resa Nel caso Ah il calcio era con F Perché non me lo dici Maledetto bastardo E Q Parata deviazione Datemi un attimo Datemi un attimo Grazie mille anche a Xabaros Xabaroslot Penso di sì Scusa per la pronuncia Grazie mille però Per la sottoscrizione Per il settimo mese Allora Allora Quindi diciamo che Mi devo ricordare In fase di combattimento Il calcio con F E la parata con Q È una parola E abbiamo visto La prima pagina Di 19 Il pad in realtà Potrei anche collegarlo Però Posso Ascia di Q No l'ascia è mia Giovani Grazie mille anche Io pronuncio Sempre Per la Sottoscrizione Ma è così La mia pronuncia Quando si fissa Diventa così Comunque Posso Mettere sta No eh Porca puttana Magari perché È la sua Poi si incazza Gli speroni Le frecce Mano dominante Perché è rubata Probabilmente sì Io andrei A curarmi Un attimo Che dite Ci andiamo a curare Dobbiamo tornare Dalla mamma A farci curare Ma porca puttana Che Figure di merda Pestati da Un bullo Così Cioè il padre Ci aveva detto Di raccattare i soldi Noi non solo Torniamo senza soldi Ma anche Pestati a sangue Che figlio Ingrato Non è anche capace Di dare dei calci Allora le fasi Di combattimento Sono un po' così Questo già lo sapevo Si sapeva Che non è propriamente Il top Sotto questo aspetto Mammina Ci hanno pestato male Mi sono Ma no Che cazzo Non smette Di sanguinare Che vita di merda Eh esatto Due pugni in faccia Non è che sia Tutta sta gran Ma come Non ha fatto niente Con l'imposizione Delle mani Eh E come si fa Ci curiamo da soli Magari Oh Così ci ridà Un po' di salute Vabbè Fatta questa figura Di merda Con nostra madre Io direi Di tornare dal tipo E provare di nuovo A pestarlo Adesso sappiamo Che con F Possiamo dare dei calci Non ci pesta Un'altra volta Questo Eh Grazie mille Aspetta Schippato il mondo Ad Angel Per la Sottoscrizione Per il terzo mese Grazie mille Angel Grazie Io ci riproverei Eh Io ci riproverei Che dite Ci riproviamo Aspetta Mi sono Sbagliato strada Che cazzo Sono andato No No È giusto È giusto Oh Io Non perdono Eh Io me lo S'ho segnato Vabbè Vabbè Ma io Non è Cioè Al momento Non è Che ci voglio Parlare Con questo Oddio Ci proviamo Parare Però Oh Giovane Abbassa la crest Non sei ancora In debito Ok Aspetta Dai Fa scattare la rissa Ma che Cattabu Oh Joe Guarda sto Figlio di Puttana Questo Chiama le guardie Carca troia Sarai tentato Però non mi fa salvare La partita Maledetto Non disponi Di grappa Del salvatore Ma che cazzo Mi serve la grappa Per salvare la partita Eh vabbè Comunque Come mi accovaccio Ok Se vuoi movimenti Assicura di non essere visto Sentito La tua visibilità Dipende dall'illuminazione Dalla postura E dall'abbigliamento Cazzo È complicato Sto gioco Ragazzi Molto complicato Eh aspetto Che esca da casa sua Dopodiché Succede un macello Qua Cioè questo Si sta a fare Le cose Con Con gli attrezzi Nostri Vada Vada Te ne vaffanculo Che diamine sta combina Ma non ci può Vedere così Anzi aspetta Gli ammazzo Le galline Maledette Cazzo L'ho ammazzata Veramente Mi scusi Raccogli il pollo Togliamo le tracce No Non lo tenere in mano Così Ok Mettilo in tasca Ammazzagli il pollo Questi li cuociamo Ragazzi Lascia fare Ha voluto Fa il furbo Vieni qua Pollo Pollo Guarda sto figlio Di una polla Maiala Guarda come Si è imboscato Questo ha capito Che lo voleva Ammazzare Grazie mille Aspettate qua Sciuia Per la sottoscrizione Non so se sia così La pronuncia Ma nel caso Va bene Aspetta Il padrone Dov'è? Non c'è Sbam Stac Prendi il pollo Grande così Olè E la cena Il pranzo Sono a posto Dopodiché Dopodiché Aspetta che Lavati Oddio ci possiamo Anche lavare Vabbè Grazie mille A Davide Per la sottoscrizione Io mi lavo Nella sua Ti sei lavato Come hai potuto In un trogolo Vabbè Abbiamo fatto Il nostro meglio Ciao giovane Come va? T'è a posto Che stai portando? Non stai portando niente Dove sono i polli? Non aveva dei polli Lei? Lascia fare Allora Possiamo dare fuoco Al suo No questo ormai Noi quando ci segniamo qualcosa Ragazzi non esiste Noi possiamo anche prendere Ah Rimesso l'acqua Sai che mi ci sono fatto Il bagno qua dentro? Ci ho anche pisciato Dentro Se vuole Guarda Mi faccio il bagno Anche così Adesso che hai cambiato L'acqua Olè Comunque A parte questo Allora La sportiveggiante L'abbiamo beccata È un GDR medievale Adesso aspettiamo Che sto tipo Se ne va Comunque c'è una bella casa Mortacci sua Questo affadebiti a destra E ammanca Questo è un quantitativo Di cacca Abnorme Ma questo è il suo Non possiamo prendere Eh vabbè Questo ha vinto Con la casa Ah no è un mercante Forse Vabbè comunque Aspettiamo che se ne vada Perché io non è che mi arrendo Così facilmente Guarda sto figlio Aspetta un attimo Questo non ha niente Qua maledetto Bastardo No Damose Ok Vabbè Mi serve il Grimaldello Da Fritz Luogo inesplorato Vabbè Penso che lo troviamo in giro Sto Fritz Signor Fritz Comunque Comunque Eh Detto questo Detto questo Direi che Ehm Ritira la guardia Al castello Questo Onestamente Non ho capito proprio Il significato Di ritira la guardia Al castello Sarò io Ma Che cazzo Significa Ritira la guardia Al castello Ehm Vabbè Andiamo a ritirare Sta guardia Al castello Vediamo che roba è Che cazzo Magari ci da qualcosa Il castello Che ne sono Comunque Saluto a tutti Quelli che si stanno Unendo Vi sta garbando Questo team Non abbiamo fatto Nient'altro Che prendere botte In realtà Per adesso Però No il video Delle 18 No perché Non Ho pensato Di fare la live Su questo titolo Invece di fare L'episodio Sul canale Di questo gioco Magari Vista anche la complessità Cioè In 20 minuti In mezz'ora di video Non avremmo visto Niente Quindi Ho preferito Fare una live Direttamente Sostitutiva Tra virgolette Senta Io Avrei da fare Non so cosa Devo fare Ma Chiedo Chiedo Non lo so Ah ci conoscono Ma più o meno Abbiamo preso Un po' di botte Quel verme Di Kanish Ci deve Dei soldi Partiamo così Infamiamolo Infamiamolo Subito Quello là No Non lo diciamo Alle guardie Perché Sennò Eh in realtà Già l'ha fatto Ma lasciamo stare Comunque Ah la guardia Della spada Ok Ok E ritira la guardia Io ho pensato Alla guardia Ero distratto Evidentemente Durante il coso Un po' meglio E la guardia Sono i pezzi Del Manico Diciamo Sì lo riporto Sul secondo Canale Questo qui E vediamo Se vi garba Lo riproponiamo Ogni tanto Eh però Allora Ma che cosa Offrirvi una birra Non abbiamo Dei soldi Cioè stiamo a fare Tutto sto casino Per dei soldi Per comprare Il carbone E noi offriamo Birra E compromettiamo Birre a destra E a manca Ma non è vero Non abbiamo i soldi Neanche per piangere Andiamo a offrire Birre qua Sì però Dobbiamo procurarci Anche della grappa Non per Necessità di alcol Ma per salvare La partita Perché io Prima di fare Qualche danno Vorrei salvare La partita Comunque Cerchiamo anche L'amico 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 frizz Qua Ahia qua Fanno le esecuzioni Bene bene Allora Lei chi è Aiutante dei carbonai Non ho soldi Per comprare Il carbone Quindi non mi può Dare una gran mano Giocatore D'azzardo Sì perché si può Giocare anche D'azzardo Questo chi è Ciao Che conosci Amico frizz Tu no Allora Aspettate un attimo Hai scoperto Il sarto Ma noi Tra tutte queste cose Tra l'altro Dobbiamo andare a Comprare della birra Che non abbiamo E a comprare Del carbone Che non abbiamo Luogo in esplorato Luogo in esplorato Allora L'amico frizz Potrebbe essere Anche alla taverna Perché se vi ricordate Quando avevamo parlato Con la madre Ci aveva detto Che I nostri amici Sono degli ubriaconi Praticamente Quindi Che è successo Scoperto il fabbro Va bene I nomi non li ricorderò mai Il signor Procopio Qui Eh probabilmente Sono questi I nostri amici Come listen and you'll hear for yourself Someone Has to bring order And reunite the empire What do I care about the Austrians And nowadays Not even the devil himself Can keep up with all the popes Which is the right for the pope The one in Rome Or the one in the middle of the north Do not blaspheme Alex It's true though Winstasus is the king of Bohemia Bohemianos are on his side To hell with Rosenberg and his cabal Sir Ratzik Is Montessor's commanding-in-chief He stayed loyal to the king And if he heard you Talking like this He would have you whipped Like a dog Your deal Will soon have nothing left to rule Jobs had to sell Luxembourg To help your king South Bohemia Is with Sigismund And don't forget about Kutenberg Where Germans like you Kissed Sigismund's feet To keep their heads Yes But good man Deutsch This is pointless Attenzione qua Scatta la rizza col tedesco Ma noi già ne abbiamo prese Da quello del villaggio Figurati Eh Fritz Ok è questo qua Abbiamo capito almeno chi è Fritz Dark Souls Remastered è possibile Qua cosina la facciamo Eh Frizz che questo ci serve pure per l'altro Ci stiamo? Vabbè Andiamo a lanciare merda così Va bene Vabbè se dobbiamo lanciare sterco Sul tipo Anche perché noi D'accordo ma in cambio dovrete aiutarmi Grande così Eh scusate Ci sta ci sta Poi andiamo a spaccare il culo a quell'altro Grande così Almeno gli amici servono a qualcosa Risse Così Ottimo Va bene va bene va benissimo Allora diriggiti a casa del tedesco Insieme ai tuoi amici La casa del tedesco Nello specifico si trova Qua Quindi praticamente dobbiamo andare a casa del tedesco A lanciare sterco sulla casa Da quello che ho capito Perché ha offeso il nostro re Lo scisma d'occidente Hai appreso Hai appreso Papa Benedetto tredicesimo Perché il gioco comunque si rifà anche agli avvenimenti Dell'epoca Quindi Qui possiamo vedere come ci sono diverse voci Che tra l'altro già ci sono Probabilmente tutte Sigismondo di Lussemburgo La famiglia Ronov Eh qua c'è tanto da spippolare Per gli amanti di Del periodo storico Sarà anche una figata sotto questo aspetto Qui abbiamo i vari personaggi Come detto Venceslao Papa Urbano Per quanto riguarda la società Apicoltura Birrai Conciatori Fabbro Secondo me è una figata sotto questo aspetto Sotto questo aspetto è veramente una figata E ci potremmo perdere una vita Però al momento abbiamo della cacca da lanciare Quindi non mi sembra il caso perderci In conoscenze così Allora Allora Pronti Ci siamo Discuti il piano d'azione con i tuoi amici Ma c'è una signora lì Ammazza che casa però Che c'è il tedesco Però Amici Che se fa Sì però Eh c'è c'è quella lì A parte Eh tipo Ma perché noi Vabbè Dobbiamo allontanare La moglie da lì Attira via la moglie del tedesco Questa è la merda Che tra l'altro Eh come la Salve Moglie del tedesco Guarda Non lo so Vostro marito sta creando problemi Così Grazie mille Giuseppe per la sottoscrizione Grazie Eh Signora lo vado a recuperare Per favore Eh don't worry Eh Che non gli conviene Va Allora la moglie è andata Partita salvata Tra l'altro Ma i C'era Ne hanno parlato anche dei figli Che onestamente non saprei Però vabbè Torna indietro e vendicati del tedesco Ok ci siamo Attenzione A mano proprio Facciamo le polpettine De merda La finezza Olè Grazie mille anche a Il vecchio Pasch Per la Sottoscrizione Per il terzo mese Grazie mille Ahia Damose Ah no Eh non offendiamo così a caso eh Ahia Era merda secca Dal rumore che ha fatto Secondo me Qua è scattata la rissa No ci prendiamo altre botte Prima Ma porca puttana Aspetta Andate voi No siamo 4 contro 4 Mortocci tua Allora aspetta qua Mamma mia Mamma mia Me l'ha tolto Da davanti Sbam Vai nella nuca Vai nella nuca Adesso Vieni qua Vieni qua Dagli un calcio Un calcio Così Oh Aspetta Ma che Ah si è arreso Aspetta che vedo una mano Vabbè Mi sa che stanno cavando Egregiamente Come faccio a uscire dal Oddio È partito come Calcio nei maroni Calcio nei maroni Grande così Sfuggi all'ufficiale giudiziario In che senso Aspetta Quale ufficiale Momento ragazzi Non lo so Sfugo Sfugo Comunque Grazie mille a Christopher Per la sottoscrizione Grazie mille Non ho capito dell'ufficiale giudiziario In che Cioè Momento Datemi un attimo Per sta cosa Dell'ufficiale giudiziario Che è quello Aspetta Forse sì Non lo so Dove sono andati Quei figli di troia A volte è necessario Raggiungere una determinata Mena appena Se arriva Non è necessario Ripetere Sulla mappa Ok Può raggiungere un viaggio Seleziona una destinazione Conferno Aspetta Ma che c'era con noi quello Non ho capito Sì C'era con noi Cazzo Aspetta Aspettate Momento Poi Poi vi faccio sap Ma c'è l'ufficiale State calmi voi Damose Ok Ce l'abbiamo fatta Momento Posso stare qui Un attimo Mi imbosco Un attimino Incontrati con i ragazzi Da Kunesh Perché adesso Dobbiamo spaccare il culo Comunque Grazie mille A Chi lo ha Per la Sottoscrizione Non so se sia così La pronuncia Spero di sì Comunque Comunque Danni ne abbiamo fatti Allora Fatemi vedere un attimo Perché noi abbiamo diverse cose da fare Compra la birra Non possiamo Non abbiamo soldi Qui cosa c'è Incontrati con i ragazzi Devo farmi tutto Vabbè Facciamoci tutta la La scampagnata qua Comunque Non possiamo salvare la partita Perché non abbiamo Come detto Hai scoperto L'ortolano Ah tra l'altro Un'altra cosa Vedete che prima Ci aveva detto Del fatto che avevamo Mangiato troppo Vedete che lì sotto C'è il Tasto della sazietà Qui in questa zona Vi lascio la freccina Una volta che abbiamo Mangiato troppo Che ci ha detto Che eravamo troppo Sazzi E' apparso il simbolo Del maiale Quindi ci sta dando Dei maiali Perché ci siamo buffati Di cibo Vabbè Ci può stare Ci può stare Però Giovane Mo torniamo Aspetta Scatta la rissa Ti spacchiamo il culo qua Aspetta Fammi andare dai ragazzi E' meglio essere Comunque in gruppo Che la cattiveria E' sempre Meglio organizzarla bene E Allora Eccoli qua Stanno Aspetta Qua dietro Comunque signori Possiamo Fritz Dai C'è da pestare Ma come Di scassinare Aspetta Ah Perché ho parlato Direttamente con lui Vabbè Vabbè La live Verso le 8 Meno qualcosa 8 Massimo Vabbè Il grimaldello Me la ha dato Ottieni il grimaldello Da Fritz E ci siamo Però parliamo anche Con gli altri Cioè se lo possiamo Pestare Ci da direttamente I soldi Mica è male Come cosa Poi il grimaldello Ce lo teniamo No dopo cena No niente Domani Al mass Vediamo Tasera no Vabbè Ho fatto adesso Allora Mi serve aiuto Con Che bel lavoro A casa del tedesco Vabbè Facciamo questo Intanto Ci siamo Allora Cerchiamo di capire Adesso Metro Allora Come detto Metro 2033 Lo giocai Ho idea di rifarli Come abbiamo fatto Con Wolfenstein Però calcolando Che metro Uscirà a fine anno Ce n'è di tempo Ce n'è di tempo Don't worry Siamo tornati Con gli amici Eh Do sta Ah eccolo là Arriva Arriva Va sentito Forse Non lo so Vediamo Next car game Sì qualche altro episodio Magari si può portare Ma dove va Signori Signori Andiamo Seguitemi Giovane Aspetta Non mi fate entrare qua Sennò questo mi denuncia Pure alle guardie Che già Ci abbiamo i nostri problemi Con la storia Della Dell'etame Venga qui Allora Ma che ufficiale giudizia Ci devi dei soldi E rissa E no Stavolta no Ma è così L'unione fa la Aia Ma perché se la prende Dov'è F F Dagli un calcio A sto fottuto Bastardo Vieni qua Questo è tosto Mi sai Questo ci spacca il culo a tutti Messi insieme Do sta E basta Ma perché non mi riesco a parare Dove sto Ah ok Trova gli oggetti Ah ci ha dato proprio le chiavi di casa Vabbè Quindi il Grimaldello ce lo teniamo per conto nostro Bene così Grazie mille a Dungaroth per la donazione Ottimo Ottimo Un po' di roba Ma tanto poi la ritrovi anche sul secondo canale Se ti sei perso qualcosa Sei persa Un po' di risse qua e là Però Non mangio più Perché se no Questo ci spacca il culo L'altra icona Non ho la più palida idea di cosa sia Aspetta fatemi vedere No ok Non ne ho la più palida idea Non mangiamo perché non mi sembra il caso Quindi Grimaldello No sblocca abbiamo la chiave Quindi Possiamo riprenderci Chiodi che in realtà ci serviva I soldi Vabbè riprendiamo tutto Eh però comunque non abbiamo i soldi Per comprare il Carbone Quindi stiamo punto e a capo In linea teorica A meno che non ce li andiamo a vendere Tra l'altro forse dobbiamo andare a casa A farci curare dalla mamma di nuovo Perché siamo messi un po' male Che cazzo Vabbè andiamo prima Scusa Senti che mi puoi dare un po' di carbone Per favore Non ho soldi Ma ho buone intenzioni Parliamo di affari Che affari vuoi parlare? Non abbiamo soldi 50 di carbone Noi ci serve E paghi zero E non abbiamo niente Quindi come ci fa? Allora Ce ne servono 50? Aspetta ce ne servono 50 Scusate Aspetta un attimo Controllo La missione Compro un sacco di carbone Al mercato 10 ce ne servono Non 50 Tanto non abbiamo i soldi uguali Ma va bene Comunque parliamo di affari Diciamo che se me ne prendo 10 Quanto ti devo? Paghi 5 che non ho Eh mi sa che dobbiamo prima vendere Qualcosa Vabbè Sono presenti articoli nella tua cesta Uscire dal negozio Eh si per forza non ho soldi Mi spia Torno dopo Che è ci accade a merda? Non lo so Qua si trova facilmente Comunque Session top donor È la La donazione più Alta diciamo Di questa sessione di live Di questa live In corso Eh 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 Allora Datemi un attimo Non so se effettivamente Andare a vendere sta roba O Comunque dobbiamo andare anche alla taverna Che birra non credo ce ne darà così A gratis Però Non si sa mai Magari facciamo pena Questa è la taverna Commerciante No questa è No è la taverna Ah questa è bianca Quella della taverna Che abbiamo detto che Siamo stati Non siamo andati ad aiutare Il nostro padre Perché stavamo qua Quindi alla taverna Praticamente Senta Scusa Mi serve La birra Siamo pieni di sangue Tra l'altro Comunque Sono qui per te O vorrei Vabbè Facciamo Buon viso A cattivo gioco Magari poi Raccattiamo la birra Non si sa mai A birra ci sarà Non ho soldi per pagarla Una caraffa per mio padre Il tedesco dice Una marea di idiozie Che non ci interessa La caraffa per mio padre È possibile Sì Portami una Ah quindi qua Olè Ecco a te A posto Vabbè Almeno la birra L'abbiamo raccattata A gratis Ecco perché C'ha le amicizie Con la locandiera Stasera salderò i debiti Non è vero Però vabbè Vediamo Ci prova E' uno della gombriccola Ah no è quello Ok ok Cosa di spada Pro Tipo Grande la grappa del salvatore Almeno possiamo salvare la partita Ma è un consumabile O ce l'abbiamo Va bene Ci guarderemo Ah no È un consumabile Allora Il gioco Effetto salvataggio Dovendo indeterminare Per esempio Negli snodi cruciali Le missioni Se vuoi salvare i progressi manualmente Bevi la grappa Ricorda tuttavia Che si tratta di una bevanda Estremamente alcolica Dispone di un massimo Di tre salvataggi personali L'ultimo salvataggio Sovrascriverà Sempre il meno recente Ok Quindi è un consumabile Quindi cioè Se vogliamo salvare la partita Ci ubriachiamo Non ho capito Che cazzo è Vabbè Comunque La birra l'abbiamo raccattata E va bene Abbiamo dei debiti Qua alla locanda Ma Che dobbiamo fare Ora direi di tornare a casa A portare la birra Per quanto riguarda il carbone Ci organizziamo magari Con qualche venditore Cioè voglio prima capire Se questi oggetti Li devo riportare a mio padre Perché magari Vado a vendere l'ascia Le cose E poi servivano A mio padre Per qualcosa Non lo so Aspetta che stiamo morendo Male Cioè nel senso Non abbiamo tutta sta stamina Dobbiamo andare a casa A farci curare Da nostra madre Che siamo tornati Per la seconda volta Pestati a sangue Ma vabbè Praticamente Nostra madre Ci cura Come se non ci fossero domani Scusa Ma hanno pestato Un'altra volta Ma Sì però Non così Veramente Sembra un bambino idiota Che cos'è Va bene Santo chiediamo al padre Non si sa mai Eh Dici come si fa Che facciamo prima Che non torniamo Ogni volta qua Magari ci saranno Delle cure Comunque Nel caso Diamo già la birra Al padre Così nel frattempo Temporeggia Poi ti porto pure il carbone Al momento Ti porto la birra Le priorità della vita Allora Le cose che mi hai chiesto Come ti mantenevi a Vabbè Facciamo anche due chiacchiere Cosa hai fatto in Kuttenberg? Oh Tutti Tu avessi potessi poter Tu avessi poter Tu avessi poter Tu avessi poter Tu avessi poter Se volessi poter Tu avessi poter Ma io non ero Non ero Non ero Non ero Mi volevo vedere Kuttenberg Nessun Allora le cose che mi hai chiesto No non ho portato tutto Diciamo Ho preso tutto da Sì a parte i soldi Allora me li ha consegnati sotto un po' di pressione Ah vabbè dai Ci ha dato lui i soldi per prendere Il martello ti sei Privato del martello Ok quindi ci ha dato lui i soldi alla fine va bene così Sì poi ci diamo Anche una lavatina che magari se no parlando con gli altri Facciamo una figura di merda tra l'altro è questo qui Possiamo lavarci qui no Ma sì Come hai potuto quindi diciamo che la situazione È quella che è Guarda qua che abbiamo anche l'orticello Dove non cresce assolutamente niente Tra l'altro Tra l'altro Noi abbiamo del pollame nel No Del pollo crudo naturalmente Penso si possa cuocere ma non adesso Non vorrei che se lo magna direttamente Detto questo Aspettate che mi sono perso un attimo Tutto quanti soldi abbiamo Sette Sette monete E così Un grimaldello Le chiavi della casa del tipo Chiavi delle porte Dei forzieri Di casa nostra Presumo Ma Scusa posso prendere qualcosa a casa nostra Del tipo Ok Fatemi controllare perché effettivamente a casa nostra non è che ci siamo fatti tutto sto Guarda qua Grande Possiamo prendere delle cipolle Delle carote La verza Anche no Il pane Vabbè questi li lasciano un po' qua Pane formato Eh però a cibo stiamo messi bene tutto sommato Guarda quante cazzo di mele che ci abbiamo Grande così Chiudi tutto Va che sennò qua ci vengono a rubare Che c'è gentaglia in giro Ehm Dopodiché Dopodiché Vabbè qua abbiamo il caminetto Fatto un po' Abbozzato però Aspetta che possiamo fare Cuoci oggetto Fuoco Ehm Posso cuocere del pollo Non te lo mangiare Per favore Cioè ridammelo cotto Ma non te lo mangiare Ah ridato cotto Dove è cibo Pollo Pollo cotto Grande così Beh presumo che Già che ci stiamo ragazzi Ce ne mettiamo Cuociamo un po' di roba Ehm 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 Ok Allora Vabbè chiudiamo qua Sembra anche giusto Andiamo fuori Possiamo andare a comprare Il carbone Cioè Capite bene che Non so da quanto tempo Siamo in là Vabbè almeno un'ora Che stiamo giocando Abbiamo fatto praticamente niente La prima richiesta del padre Era quella di portare Del carbone Nella birra Ci abbiamo messo un'ora Tra risse varie C'è da dire anche questo Però Scatta la risse Nel medioevo C'è una risse ogni 3x2 Guarda lì il castello Che tra l'altro Noi siamo anche ai piedi del castello Quindi significa che C'abbiamo una certa rilevanza Non è vero Ma va bene Pensiamo Pensiamo di sì Pensiamo di sì Er carbonaro Grande così Marchese del grill Allora Parliamo di affari Buon uomo Qui abbiamo della moneta Da investire 10 Che tra l'altro Ci avanzavano pure due spicci Perché qua costava 5 Quindi grande così Scorri Chiudi Penso che Si possa uscire così No Paghi 5 Va bene Cesta Questo ce l'abbiamo Sono presenti Articoli della tua cesta Uscire dal negozio No Fammi capire Come cazzo Te li pago Visualizza la cesta E vabbè Ho capito Aspetta che qua Adesso inizia a diventare Un problema Per pagare Mi sa Scorri le schede Chiudi Ve lo giuro Ho dei problemi Nel capire Come si paga Denaro totale Il carbonio Si ottiene bruciando Leni Va bene Ho delle serie Difficoltà Grazie mille A Dangaroth Per la donazione Grazie mille Adesso Si penso che La sportiveggianza Non la perdiamo mai Magari perdiamo La capacità Di pagare Abbiamo pagato Aspetta abbiamo pagato Ok abbiamo pagato A posto Si e non era una volta Dovevamo cliccare Più volte Con x Ecco perché Non Sembrava non funzionasse Comunque Per le live Si ogni tanto Le rifacciamo Ora vediamo un pochino Di Organizzazione Non sempre Ogni tanto Quando posso Quando posso Torna da tuo padre Va bene Qua c'è l'ortolano Il sarto Vabbè Tanto abbiamo due spicci Non credo che ci esca qualcosa Però potremmo prendere Tutte quelle mele Che abbiamo a casa E venderle Così Ma tutte ste spade Abba boh Ma non te posso frega Qualche attrezzatura Una spada Cazzuta pure per me Che qua Combattimento a mani nude Mi hanno pestato male Comunque Siamo pronti Allora Le cose che mi hai chiesto Ce le abbiamo Sì sì C'ho tutto Iniziamo a forgiare Come se non ci fosse domani La birra Non so cosa possa servire Ma va bene Grazie mille a Dragmiles Per la donazione Grazie mille Grazie mille Grande Ale Ritorno con le live Almeno una volta a settimana Se proprio non riesci sempre Sì Io penso di sì Una volta a settimana Si può fare Continua così Stai volendo un bel canale A prescindere dalla velocità Con la quale Gli iscritti crescono Grazie mille Grazie mille Per la donazione Grazie A Dragmiles E grazie mille a Roby Per la Sottoscrizione Grazie mille Aia L'ufficiale giudiziario Ci aveva riconosciuto Sì effettivamente è uguale a Via Non sappiamo se Oddio non penso sia Perché c'è il cappellino Ma si vedono un po' I capelli Però ci siamo ripuliti E' uguale a Bravo L'esperienza Bravo Bravo Gli insegnamenti Del babbo Ha lanciato merda Così Senza neanche Di provare A controbattere Ma poi ce la fa provare Sta spada Tanto per Fino ad adesso abbiamo preso solo pugni Occhio che qua ci Se ci scivola quel pezzo ci bruciamo le mani malamente Ok Va bene va bene Allora la guardia è giusta Il manico pian piano Allora la guardia è giusta Allora la guardia è giusta E qui ho la mia madre Allora la guardia è giusta Quanto aver andato Qui ha Donald La guardia è giusta Eh stavo seguendo la chiacchierata Perché È molto interessante come cosa Ci fa capire il mondo In cui siamo Le vicende che sono accadute Che stanno accadendo Grazie mille a SalvoJK Per la sottoscrizione Grazie mille Buongiorno a te Teresa Sono pronti Prendetevi per me Hal Ok E un attimo staranno qua Probabilmente Penso di sì Aspetta fatemi vedere dove cazzo Eh non ne ho la più palida idea In realtà dovrebbero stare qua Ma Al momento che sarebbe impallato il mondo Allora Allora Formaggio no Qua non Qua si magna Secondo me stavano dall'altro lato Perché mi sono perso la chiacchierata Edizione La carota Non mi porta la carota Scusate Non mi sembra il caso Non mi sembra proprio il caso La verza No Qua c'è solamente del cibo Secondo me No No Grimaldello È casa nostra Qua c'è solo cibo Scusa mi sono scordato Dove mai Ce l'ha detto da qualche parte Andaggia la troia Sì perché l'indicatore È Molto abusivo Nel senso Si capisce un cazzo Allora Si sposta da qua a là Quindi Fermi tutti No Non lo so Non ne ho la più palida idea Baule in soggiorno Aveva detto Allora Il soggiorno è questo Il baule è questo Eh che cazzo Sta a guardare Bendaggio infuso Di calendula Il bendaggio forse potrebbe Anche esserci utile A noi no Guarda io Un bendaggio Lo porto Non si sa mai Questo non so cosa Possa servire Ma va bene Allora Date pazienza Ma Me l'ho perso dentro In un bicchiere d'acqua Dentro casa La porta La chiudiamo Portiamo i chiodi A Teresa Allora Tanto siamo ancora Pieni come dei maiali Come potete vedere Dall'indicatore Teresa Ecco qua i chiodi Ci ho messo un po' Ma mi sono perso Dentro casa Mia tra l'altro E' la nostra Però Eh vabbè la cam Dove la metti Metti Qualcosa copre Quindi Vai va Guarda là Secondo me Una filatina Ci potrebbe pure stare No Eh vabbè Se lo dici tu Ah papino Perché non ce la fai pure a noi Una spada Scusa che andiamo in giro Vestiti da Da elfo E A mani nude Che prendiamo solo botte Eh scusa Spostatevi però Perché qua secondo me Salta qualche testa No Non mi fa provare Mamma mia Eh Vabbè Ask il tuo padre Saluto a chi va E chi si sta unendo Va bene va bene Arrivederci A lungo, peculiar History That was a long time ago I might tell you about it sometime But not today Will you teach me how to use it Like Sir Radzik said Why? Well, it could come in useful Maybe I'll travel a bit before settling down I'd like to know more than the tavern on the green Of the forge You know the trouble with an adventurous life So it can end before it gets started I might teach you how to handle the sword And then someone will shoot you with a crossbow As soon as you set foot outside the house Eh vabbè, allora scusa Un passo alla vostra And my age I've seen a lot Being a blacksmith might bring no glory But it has its benefits Like keeping your head on your shoulders I want to end my days in scalites Here, beneath the linden tree By your mother's side You said why? One day? But first I'd like to see the worlds Meet new people Meet them or beat them Meet You have to keep going on about it Then you've no need to learn swordplay The messenger He was in a hurry What's happened? Ah yeah It's aจะ He was in a hurry An He was in a hurry No, no, no. Allora, allora, andiamo a casa a recuperare un po' di rai. A sto punto mi facevo un giro in più dentro al villaggio, cazzo. Ah, sta facendo da solo, vabbè. No, il cibo dovevamo prendere, tutte quelle mele, maledizione. Alla taverna, le cose, la signora bianca, la madre. Vabbè, la madre è andato lui a recuperarla, però qua la situazione è un po' così, un po' critica. Non abbiamo visto niente del villaggio. Si poteva fare di più. Aia. Allora, con la nostra abilità di spada secondo me moriamo ancora prima di uscire da questo cancello. Che non è un cancello, non va bene. Guarda là. Tra l'altro col cappello... Ma è vestito quasi da marinaio del peschereccio, o sbaglio? No. Cioè, col cappellino tipico da marinaio, da pescatore. Quelli che stanno là... Vabbè. Sicuramente è più sportiveggiante di noi, ma... Aia. Aia. Intanto, grazie mille a Re e Giulia per la sottoscrizione, grazie mille. E questo è... dovrebbe essere... Fratello, diciamo, del Re. Quello che vuole... A sto punto salire al potere, al suo posto... Aizzato, tra l'altro, dai nobili. Ma che cazzo dobbiamo fare il postino? Ma scusa, ci hanno chiuso fuori. Hai appreso schialiche, missione, una vita in... Una visita in attesa. Nella scheda inventario sono elencati tutti i tuoi equipaggiamenti, relative descrizioni, qui voglio modificare anche gli abiti di Henry. Aspetta un attimo, perché noi come abiti non abbiamo niente. Ora però dovremmo avere una spada, infatti ce l'abbiamo. E per il resto, come detto, siamo messi un po' male. Cioè, non abbiamo niente. E... ok. Allora. In fuga. Andiamo. Si in fuga, però... Aia. Cazzo. Aia. Oh! Ma che cazzo di rincoglionito è? Ma non si muove sta testa di cazzo. Continua. Ma scusate. Capito? Corri. Però, un attimo. Vabbè. Non ho avuto il tempo di... Aspetta. Dobbiamo andare da quest'altro lato. Io corro, eh. Non so dove vado, ma corro. Seguo... Vabbè, voi non lo vedete dal... Vabbè, buttiamoci random, perché... Aspetta che siamo un attimo affaticati. Recuperiamo un attimino. Vado verso A. In realtà non mi sta inseguendo nessuno, però... Siamo ancora un po' appesantiti, come vedete, c'è ancora il coso del maiale, là. Momento. Aspetta. Allora, se ci ha messo così la pausa, va bene. Allora, grazie mille a Salvo J per la donazione. J cap. Grazie mille anche a Blauser per la sottoscrizione. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Allora, momento. Movimento. Il trotto è l'andatura normale del cavallo. L'andatura di passo consente al cavallo di recuperare le forze. Ok, vabbè. Canter è un compromesso tra velocità di andatura e resistenza del cavallo. Doppio maiuscolo. Il galoppo è l'andatura più veloce, ma consuma vigore. Allora, seguire percorso. Il tuo cavallo è molto intelligente. Seguirà il sentiero che stai percorrendo. È sufficiente lanciarlo al canter e non sterzare. Ok. Poi, l'indicatore del vigore del tuo cavallo si consuma quando procedi al galoppo. Se sproni il cavallo quando è esausto, potrebbe tentare di disarcionarti. Andiamo bene. Il galoppo è sfiancante. Può consumare anche il tuo vigore. Soprattutto se non sei un cavaliere esperto. No, assolutamente no. Presumo che cadremo anche dal cavallo. Andiamo bene. Aspetta, però, prima che... Ci stanno questi qua. Noi, penso che conviene che sedamo. Puoi chiamare il cavallo qualunque... Fischio X. Il suono tuttavia sarà udibile a chiunque non trova una parola. Ok. Altre volte noi... Ok. Allora, saliamo sul cavallo. Ma quale cavallo? Uno a caso? Tipo questo? Cazzo fai! Aiuta Teresa a sfuggire dagli aggressi... Aspetta, quale... Ma Teresa chi? Ma che cosa? Ma Damose? No, forse è davanti Teresa. Non lo so. Posso mettere la pausa per capire che cazzo stiamo facendo? Ah, Thunberg. No. Aspetta, dove era Teresa qui? Vabbè, poi ci guardiamo. Grazie mille comunque a Luke per la sottoscrizione. Non so se Teresa era quella lì, ma ho dei problemi. Guarda, allora, così andiamo normalmente. Se clicco due volte va come se non ci fossero domani. Tra l'altro ha anche una bella resistenza, quindi. Eh, lo so che Teresa... Scusate, erano in treno e già da soli qua non riusciamo a fare niente. Mi sa che abbiamo lasciato Teresa a una bruttissima fine. Se era quella, presumo di sì. Ci hanno infilzato anche sulla coscia con queste frecce. Siamo stati un po' vigliacchi in realtà. Più che vigliacchi non avevamo capito un cazzo. Nel senso che questo si era imbarcato col cavallo. Vabbè, comunque, fatto questo. La ferita perde sangue, deve essere fasciata. Ma Harry non è ancora in grado. Trova subito qualcuno che possa aiutarti. Allora, questo è in linea teorica che il cavallo dovrebbe seguire il sentiero. Non è vero per un cazzo. Ci aveva detto che era intelligente. Aspetta! Fottuto bastardo. Salta! Aspetta! Mi sei incartato il cavallo! Stiamo sanguinando come dei maiali! Anche il cavallo non sta messo bene. Aia! Corri! Che cazzo? Non lo so, io vado verso A. Vabbè, voi non lo vedete, ma comunque c'è. Ok. Sì, però sto cavallo ha una... Aia! Ha una direzionalità veramente di merda. Trappola da P. Ma che trappola da... Toglietevi dai coglioni! Scusi, però con una freccia... Sul cavallo! Che cazzo! Ho scoperto il sacrario, non... Scusi... Occhio! Andatemene! Vabbè, arrivederci. Scusate, non è per qualcosa. Momento, è un attimo... Complicata la situazione qui, perché... Ma ci stanno ancora inseguendo... Morca puttana! Ci stanno inseguendo, sì! Guarda, questi come stanno in scia! Li mortacci loro! Occhio! Vabbè, io provo ad andare... Non lo so, io sto seguendo... Aspetta, si sta... Piano... Eh, si sta mancazzando il cavallo, perché era finita la barra... Verde, quindi adesso con calma, tra virgolette... Con la corsa... Aia, aia! Ho capito le cose... Ma che cazzo dobbiamo fare? Porca puttana! Mi stanno uccidendo male! Non sto correndo con la... Sta correndo il cavallo, ma... Relativamente... Stiamo per morire male, comunque... Perché stiamo morendo dissanguati, se ci state facendo caso... Perché la barra sta scendendo... Ma pure il cavallo si deve riposare... Più di questo non possiamo fare... Stiamo per morire malissimo... Se non è questo il villà... Grande, è così... Siamo arrivati però con il cavallo... Con la freccia in testa, eh... Tra l'altro... Eh no, dovevamo per forza portarceli dietro... Se no, la cosa iniziale non sarebbe stata... Non lo so, eh... Eh beh, almeno qua ci siamo arrivati... In una situazione un po' così... Anche la freccia lì che ce l'ha presa... La coscia là è rimasta... Ok... Ma come gli dia da bere... Eh, c'ho... Eh... Più che altro... Non è che... Cioè, ci può stare una birretta, eh... Non è che si rifiuta... Però... Sa, se mi curate sarebbe anche meglio... Eh, probabilmente saranno... Gli ungheresi... Che sono comunque... La... No, Venceslau... Aspetta, erano Venceslau e quell'altro... Non mi ricordo... I nomi dei due fratelli, però quello... Al potere... Era quello un po' così... Un po' salamotto... E quell'altro che era il re degli ungheresi... Probabilmente quello a capo della... La freccia non si toglie così... Buon uomo... Se è freccia ci strappi tutto... Così... Ah, no, vabbè... Se è fatta in... Quel modo, più o meno... Forse... Ci dice lei... Oh, piano, giovane... Ma che cazzo è? Non possiamo camminare... Questo ci prende... Vabbè... Vabbè, dai... Ci dà una mano... Dopo che c'ha... Eh... Sigismondo e quell'altro... Ve l'avevo già detto... Che i nomi... Non li avrei mai ricordati... Sì... Ma un po' di più... in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It's said they came to Hungary from the east and now they're the core of his army. Sacking Kutenberg must have given him a taste of stolen silver. Scalas is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. No, this is a small garrison would be no help. Even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? No, this is a pezzi di farlo un po' così in live. Non so quanti episodi, però per il momento mi sta garbando. complicato e alcuni limiti tecnici, diciamo così, però poi ne parliamo appena finita la live. per il momento. Per il momento. Grazie per rischio per rischio di tecnici per warno ci. Robard, s'il preghi di Henry. 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 E al momento non posso Adesso abbiamo finito magari Vabbè che poi Allora Raggiungi Talberg Ok E che effettivamente parlano un po' Troppo basso loro Allora Salute la stiamo recuperando Il vigore no Abbiamo scoperto il letto Perché Il vigore presumo Che è Scoperto il fornaio grande Semplicemente vedete che Stiamo anche traballando Perché dobbiamo andare a dormire Presumo per poter recuperare Quella che è la nostra Energia Allora qui abbiamo scoperto la zona Il letto è da questo lato Possiamo presumibilmente vederlo anche da qui Dialogo 1 Ed è in rosso Forse perché facciamo cagare Perché siamo in una condizione pessima Tra l'altro come avete visto Come ci diceva all'inizio Il nostro vestiario Andando avanti si consuma E quindi anche per questo Magari durante le fasi di chiacchierata Dobbiamo Cioè se ci presentiamo così Ad un nobile Ci sputa in faccia Siamo messi veramente male Però va bene Energia 100 Condizione 30 Siamo messi male sotto un po' Tutti i punti di vista Prima cosa però direi di andare a dormire Poi se ci capita qualcosa da mettere sotto i denti Anzi guarda mi faccio pure un bagno Anche se Fatemi vedere Possiamo zoomare per vedere Non dovremmo essere sporchi più di tanto A parte il sangue però Aspetta mi sono incartato Ah questo sta qua Vabbè mi faccio un attimo un bagno Poi andiamo a dormire Sì come detto Adesso ne parliamo Per quanto riguarda Il gioco E alcuni aspetti tecnici Dove cazzo sta il letto Scusa Deve stare qua dentro Eh devo mangiare Che cazzo mi mangio Non c'ho niente Forse Forse No abbiamo il pollo Attenzione Consuma il pollo Sazietà 31 Può bastare Sti cazzo Ok Allora Questo è il letto Quindi presumo No siediti Riposa di male proprio Non so se sia questo Ci siamo messi in un letto random Dormi Dormi Impossibile rimandare Non c'è tempo da perdere Ma scusa Siamo messi malissimo Vabbè magari salviamo Anche perché si è fatta una certa Parla con Sir Robert Vabbè magari ci farà riposare dopo E alza Comunque Comunque Direi che Scusa Non ho capito Dov'è Ah Eravamo Un attimo così Vabbè Vabbè ragazzi Prima di parlare con il tipo Cosa che magari faremo successivamente Direi di salvare la partita Partita salvata Ok Quindi in linea teorica Siamo Se hai bisogno di un'ulteriore faschetta di grappa del salvatore Prova a rivolgersi ad altri mercanti o taverne O meglio ancora A uno speziale In alternativa puoi distillare personalmente il liquore Ammesso di disporre degli ingredienti necessari Di un banco di alchimia Quindi anche i salvataggi Sono un qualcosa di Limitato Come detto Per il resto ragazzi Allora Il gioco per il momento Sembra comunque Non andare Malaccio Io per sicurezza Visto alcuni problemi tecnico-tattici Che poteva avere Non ho messo tutta la qualità Al massimo Anche perché poi in live Si vede Comunque Non al massimo Della qualità Visto che comunque Si abbassa parecchio La qualità E Per quanto riguarda Il gioco Come detto Io eventualmente Vorrei riportarlo Magari nei prossimi giorni Magari domani Se riesco ci facciamo Monster Hunter In live Poi chiacchieriamo anche di Monster Hunter Se farlo direttamente in live E solamente in live O se continuare gli episodi classici O se li trasformerò in live Vabbè più che altro Più che chiacchierai Deciderò io in base a come Perché vedo In base a Quanta gente segue Gli episodi veri e propri Perché giustamente Essendo quel tipo di gioco Così come questo Molto ma molto lunghi Se faccio un episodio A 20 minuti Mezz'ora Anche un'ora Ci si mette una vita Quindi se non interessa Magari facciamole live Un po' di ore O me lo gioco per conto mio Le opzioni sono quelle Mentre per quanto riguarda Questo qui Ve lo riporto sul secondo canale Spero che vi sia Garbata ragazzi Questa Spippolata Al titolo insieme Come detto Magari ogni tanto Ci facciamo qualche partita Vediamo in settimana Se riusciamo a rifarci Qualche Qualche live E E quindi niente Domani Come detto Per quanto riguarda Monster Hunter Probabilmente ce lo facciamo Nel pomeriggio Un po' come oggi Magari anche un po' prima Vediamo Dipende dalle altre Registrazioni che Devo fare Comunque E niente ragazzi Allora io come sempre Vi ringrazio tutti quanti Per aver seguito la live Adesso ripartiamo Piano piano anche con Le live Vi faccio sapere un po' Voi seguite su tutti i social Facebook Twitch Cioè mettete anche il Like Il cuoricino qua Su Twitch Che almeno vi arriva l'email Non so con quanto ritardo Ma almeno vi arriva E Su Youtube Anche nella pagina community Vi faccio sapere Seguitemi anche su Instagram Così tanto per Dai ci vediamo Allora eventualmente Domani Ringrazio tutti quanti Per aver seguito la live Chi ha donato Chi è sotto Si sia abbonato Tutti quanti In generale E poi Il video Questo qui Se vi siete persi qualcosa Ve lo riporto sul secondo Canale E Non so se entro Stasera O forse direttamente Domani Penso che ve lo riporterò Dai ragazzi Allora Come sempre Grazie mille a tutti Ci Ci Ribecchiamo Spero domani Ciao ragazzi Buona serata Buon appetito Vi sta anche l'ora Ciao ciao La Grazie mille a tutti